Benvenuti al CLAS. Partecipare all'attività del Centro Linguistico di Ateneo è cosa molto importante. Il CLAS dell'Università della Calabria, che è membro dell'Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari, e all'interno di questa associazione svolge il ruolo di segreteria nazionale, è anche associato al CERC, l'Associazione dei Centri Linguistici Europei, è un CLAS molto dinamico, dinamico e affollato da tante figure professionali che sono unite da interessi di lavoro comune, ma sono anche unite da legami affettivi che si sono creati e consolidati nel tempo. Se pensiamo a parole chiave che possano essere rapportate al CLAS, suggerirei da subito culture, o meglio, un incontro di diverse culture, lingue o multilinguismo come obiettivo a cui aspirare, e internazionalità, che è un concetto diverso, si differenzia da internazionalizzazione, e cerca di andare oltre, proprio perché cerca di cogliere una condivisione di diversi modi di pensare, una consapevolezza delle differenze di comportamenti, una curiosità verso quanto di nuovo e di diverso esiste. In realtà, se clicchiamo sul sito del CLAS, volutamente si affaccia proprio su questa idea. Immagini di viaggio scorrono davanti all'osservatore, cartoline dal mondo che incoraggiano a chiedersi cosa c'è dietro la foto quando si può apprendere visitando questi luoghi, cosa c'è oltre. Ma un centro linguistico va molto oltre, offre servizi, azioni didattiche per tutta la comunità di Ateneo, gli studenti, le studentesse, i dottoranti, il personale tecnico amministrativo, i ricercatori, i docenti, servizi didattiche in aula, ma anche servizi didattiche online, che maggiormente vuole esaltare l'importanza dello studio in autonomia. Quest'ultimo, in modo particolare, è considerato non come un modo per lasciare abbandonato il corsista al proprio studio, ma al contrario come una filosofia di studio che dia fiducia, che dia consapevolezza ai più giovani, in modo particolare, ma non solo, che lo studio può essere gestito autonomamente, sulla base di interessi individuali, sulla base dei propri ritmi di studio e delle proprie competenze. In altre parole, se hai qualche abilità, riconoscila e mettila in azione. E proprio in questa direzione noi abbiamo lavorato negli ultimi anni per offrire a chi vorrà utilizzare il sito del CLAA per corso di studi autonomi, guidati attraverso materiali che aiuti a sviluppare competenze linguistiche nel settore accademico, aziendalistico, sociale, scientifico. Tutto questo attraverso programmi interattivi, video su tematiche correnti, selezionate per scopi didattici, videoclip di canzoni che aiutano a sviluppare quella necessaria musicalità linguistica. A questo si aggiungono tante altre azioni didattiche, ma non solo. Tra le prime è quella di rivestire con colori e trasparenze i propri spazi, i colori del mattino, come una studentessa ha commentato, arancio, azzurro, giallo, colori che incitano a studiare in un contesto armonico. E questo con l'obiettivo di accogliere bene tutti i nostri e i nostri ospiti è dar loro consapevolezza che abbiamo lavorato, che abbiamo creato un ambiente di studio confortevole proprio perché loro sono la nostra priorità. Il resto si può elencare in piccole azioni che possono essere significative per tanti. Ce lo ha insegnato l'esperienza nel tempo e le richieste che ci sono state rivolte. Conversare con un tutor nella lingua richiesta, rivedere gli aspetti linguistici di un paper, rivedere la presentazione che ci mette tanto in ansia prima di andare e di partecipare ad un convegno, tradurre un articolo, offrire un servizio di interpretariato, offrire servizi didattici per il territorio e per le scuole, dare l'opportunità di partecipare ad esami mirati ad ottenere certificazioni internazionali. Azioni talvolta accompagnate da piccoli costi. Costi perché? Fondamentalmente perché il CLA è ricco di tante idee da realizzare, ma anche un po' povero di fonti, ma anche per sottolineare il rispetto, la dignità, la professionalità messa in atto da tanti tra lo staff del centro linguistico. E tuttavia i compiti istituzionali del centro linguistico rimangono la nostra priorità. L'obiettivo è quello di offrire input linguistico grazie allo staff esperto che lavora presso il CLA e grazie alle giornate di orientamento e servizi didattici che il centro offre, programmate per i corsisti delle scuole di dottorato, per gli studenti, per il personale tecnico-amministrativo. Insomma c'è tanto da fare, tanto lavoro da organizzare e da svolgere. Noi vi terremo informati attraverso il sito del CLA, attraverso il giornale del CLA che pubblicheremo periodicamente sul sito e che vi invieremo. Si può superare la pigrizia multilinguistica che talvolta ci avvolge, stimolare consapevolezze culturali che avvino a possibili conoscenze dell'altro, sviluppare competenze linguistiche per poter ben comunicare con gli altri in altre lingue. Il CLA cercherà di facilitare queste azioni. Buon lavoro a noi, buon studio a voi.